Oggi ho partecipato a questa interessantissima giornata di studio e di lavoro, portando le mie conoscenze, le mie competenze, in particolare sul tema della dimensione territoriale per il successo formativo dei territori. Una dimensione che sempre più oggi si colloca in un quadro di geometria variabile in cui gli attori del territorio condividono un patrimonio e rileggono le risorse territoriali, proprio nella chiave di costruire delle alleanze, delle rete sempre più forti tra i diversi soggetti del territorio per costruire una formazione innovativa.